La navetta Atlantis è atterrata a Cape Canaveral in Florida portando a termine l'ultima missione e chiudendo un'epoca. Il programma trentennale dello shuttle, la prima navetta che parte come un razzo e atterra come un aereo, ha reso routine i voli spaziali con ben 135 missioni e 870 milioni di chilometri percorsi. È stato un capitolo importante dell'esplorazione umana dello spazio, funestato dalle esplosioni in volo nel 1996 e 2003 che hanno distrutto due delle cinque navette, il Columbia e il Challenger, e sono costate la vita a 14 astronauti. E allora è andata la dedica dell'ultimo equipaggio dello shuttle, capitanato da Chris Ferguson. Metteremo l'Atlantis in un museo ora, insieme alle altre tre sondi orbitanti, perché le generazioni che verranno dopo di noi possano ammirare ed apprezzare. E speriamo, vorrei l'immagine di un ragazzino di sei anni mentre guarda una navetta in un museo e dice, papà, voglio fare una cosa del genere quando sarò grande. In attesa di una nuova invenzione, per i prossimi anni gli Stati Uniti saranno costretti a chiedere ai russi passaggi a bordo della Soyuz per poter raggiungere lo spazio. La scommessa ora sarà l'ingresso dei privati nella ricerca spaziale.